La notta porno star Maurizia Paradiso insieme ad un'amica ha aggredito a calci e pugni il socio in affari. L'uomo ricoverato d'urgenza agli ospedali riuniti di Bergamo rischia di perdere l'occhio in quanto le due donne gli hanno spaccato il bulbo oculare. La lite è avvenuta a Canonica d'Anda dove la Paradiso ha da poco aperto il locale Maurizia's Club del quale è vicepresidente. Tra lei e suo socio Ferdinando Cremascoli, l'odigiano presidente dell'associazione intestataria del club, ci sono state però delle divergenze. E proprio per concordare l'uscita della porno star dalla gestione del locale, i due avrebbero organizzato un incontro in un bar del paese bergamasco. Un incontro tutt'altro che amichevole, sfociato quasi subito in un acceso diverbio, al termine del quale, come racconta Cremascoli, la Paradiso e l'amica che era con lei lo avrebbero assalito. Le due donne si sono poi scusate con i titolari del locale per il trambusto creato e se ne sono andate. Cremascoli, subito soccorso, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico all'occhio durato tre ore. Si dovrà adesso attendere qualche giorno per conoscere l'esito dell'operazione. Intanto il suo avvocato, Chiara Bezzante, presenterà in tribunale una denuncia per lesioni gravi nei confronti di Maurizia Paradiso, non nuova a comportamenti simili.